come cambiare lingua alle mans ultimate ovviamente per cambiare lingua al gioco almeno avere i sottotitoli in italiano bisogna direttamente andare nella cartella del gioco quindi in questo caso io ve l'ho scaricato e installato su un volume quindi un disco del mio pc scendo fino a giù fino a trovare così la cartella del gioco eccola qua le mans ultimate 18 giga ci clicco dentro vado sulle mans ultimate scendo fino a giù fino a trovare così il documento steam trattino basso emo ci clicco sopra scendiamo fino a giù fino a trovare language eccolo qua da english tu metti italian una volta fatto salvi così il documento chiudi tutto e non ci resta che avviare il gioco ed eccolo qua ovviamente come puoi vedere qui sotto c'è scritto il mio profilo impostazioni impostazioni vado direttamente su audio per vedere se posso cambiare poi la lingua gameplay come puoi vedere tutto italiano qua sulle impostazioni quindi in questo caso se questo video ti è stato utilissimo su come cambiare lingua le mans ultimate iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao